All'epicultura, amici, nel 2021 l'educazione all'uso della rete e dei social network rientrano nei problemi di genitori e cari. Magari dopo qualche giorno ci proviamo a cercare su internet, adottiamo un genitore e chissà troviamo qualcuno pronto da aiutarci. Dal vostro MCC, Marco Camminari Calciolari, sempre dalla vostra parte, per ora è tutto, a vuol studio!